Allora, tavola 38 è l'assonometria, questa volta isometrica, di queste due rampe di gratini che si incrociano in un piano e rottolo. È diciamo lo stesso oggetto della tavola 37. L'unica differenza è che la tavola 37 era un'assonometria cavaliera e questa è un'assonometria isometrica. Anche in questo caso dividiamo il foglio in due parti, nella parte alta, facciamo la proiezione ortogonale di tre gradini che è identica a quella della tavola precedente. Nella parte bassa faremo l'assonometria isometrica. Allora, qual è la differenza tra la cavaliera e l'isometrica e l'inclinazione degli assi? Nella cavaliera abbiamo messo l'asse X inclinato di 30 gradi e l'asse Y di 60. In questo caso sono inclinati tutti e due di 30 gradi. La differenza appunto quale sarà sostanziale? E' che nell'altro caso l'angolo tra X e Y non era di 90 gradi, il che voleva dire che l'oggetto rimaneva soltanto ruotato, ma di fatto con le stesse proporzioni, dimensioni e angoli della vista dall'alto. In questo caso, essendo i due assili di 30 e 30, la parte interna verrà scorciata. Eccolo così. Cioè nel senso che questo angolo, che vi faccio vedere qui, che nella realtà sarebbe di 90 gradi, diventerà di 120. E ugualmente questo angolo che nell'altante di 90 gradi verrà meno di 90 gradi. Le dimensioni sono le stesse della vista dall'alto. Ecco, la cosa importante che dovete ricordare è che le misure rimangono invariate lungo gli assi, per cui questa misura 0,5 dello stacco è uno 0,5 che si può prendere anche da qui e portare la relativa linea. Questo è 3 metri, è 3 centimetri e deve rimanere 3 centimetri. Un centimetro rimane un centimetro. Cioè tutte le misure che vengono prese parallele agli assi rimangono invariate e bisogna prenderle parallele agli assi. Quindi come prima cosa ricostruiamo la parte di base, quindi la base della proiezione ortogonale. Dopodiché porteremo le altezze. Allora, il primo gradino, l'altezza è un centimetro, come vediamo sopra, un centimetro, due centimetri per il secondo gradino, sia a destra che a sinistra, tre centimetri per il terzo gradino e piano e rotto. Dopodiché, passaggio ulteriore, incomincieremo a fare le pedate. Le pedate saranno parallele all'asse X, in questo caso. Quindi iniziamo con l'asse X, parallelamente all'asse X, facciamo la pedata del primo gradino, che viene ad un centimetro, del secondo e del terzo. In quest'altro verso, ugualmente. Lungo l'asse Y facciamo la stessa cosa. Quindi parallelo all'asse Y, la prima pedata, la seconda pedata, la terza pedata e anche da quest'altra parte. A questo punto mancheranno questi spigoli qui, che li disegneremo, prima lungo l'asse X e poi vicino all'asse Y. Questo che troviamo è il disegno finito. Adesso occhio al discorso delle matite. Ricordo a tutti che in questi file che vi metto, le linee spesse, come sopra nella proiezione ortogonale, sono fatte con la mini AF o HB. Le linee sottili con la 2H. Allora, l'assonometria che vedete sotto in questo momento è attualmente fatta tutta con la 2H. Adesso dobbiamo ripassare con la F gli spigoli. Ricordo per l'ennesima volta qualche sono gli spigoli. Gli spigoli sono dei segmenti che dividono due facce. Quindi, per capirci, questo qui sarà uno spigolo perché divide questa faccia da quest'altra. Questo qui sarà in parte uno spigolo, cioè fino a qui, perché divide questa faccia da quest'altra. E non questa parte sotto, perché questa qui sarà una faccia continua. Questo vale per tutto. Quindi il risultato finale sarà questo. Troveremo, appunto, quello che vi dicevo, questa prima parte sarà fatta con la F e la seconda rimane con la 2H perché questo non è uno spigolo. Questo vale per questo, per questo e anche per quelli dietro. Ricordo sempre che tutti gli spigoli vengono fatti con la F. Interi gli spigoli visibili e tratteggiati gli spigoli nascosti. Gli spigoli nascosti significa quelli che sono nascosti da una faccia. Quindi, in questo caso, sarà questo, questo e questo che sono nascosti da tutte queste facce davanti. Il resto sono tutti visibili. Quindi ripassate questa tavola con la mina, il disegno finale con la mina F in modo che il disegno diventa così completo. Grazie. Grazie.